All'un show sulla sinistra per Gucinic, posizione regolare, il controllo di Gucinic, all'interno dell'area di rigore il pallone sul secolo. Goal! 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 Già che so! Già che so! Già che amo! Ti amo! Ti amo! Grande Rodrigo ti amo! Ti amo Rodrigo! Se è brutto ma ti amo! Grazie a tutti! Grazie a tutti!